Buonasera tutti ragazzi, guarda che si servono a coprire questo nome da un villano e un colato di tutti gli occhi Ora deve andare a fare la missione, l'altra missione Non si scorda Dobbiamo andare a prendere quella barca dove il figlio di Michael c'è la olobricchiana C'è la barba d'abba Vecchia pomba, guarda Non è lontano Non è lontano che la piscina E' anche la piscina ... ... ... ... ... ... Oggi oggi, che non c'è il scemo, si ha rubato i occhi E' un po' la rete che fai qua, che non c'è il scemo e fai qua a casa di Franklin E' un po' qui, e qui non c'è il scemo Quanto è il Franklin? Quanto è quello con un cazzo? Fa che ombre sei? Fai, s'è quello è, un po' li Un po' di un po' di un po' di bambi Non è tutto Ma se la fine Super, ma sarebbe Non è tutto Ma se l'ho chiamare Ma se fece Ma se l'ho chiamare ...ei del książi Ma se le chiamare Ma se le dell'i Ma se l'ho chiamare Ma se l'ho chiamare Ma a r somebody Ma se l'ho chiamare Ma se lasciare Ma già ha no 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 come on come on oh kid hit on my song throw him overboard knock the engine shit I do e aquí non lo ha Νai di spalla oh isn't he with those qui si non ma dimine è una tutta minna fu no la maggiore acivolo 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 All right, è l'ultima stanza. Oggi vanno a giocci, io fighi di mai avanti. Oggi ovi, o la ciasse a barmi da me la bassa. Oggi, ovi le scendere, c'è un'occa. È, o la ciasse a paia. Veloci, veloci. ma anche se non è vero guarda che cosa è merda non saputo che voglio ma non ho detto che non ho detto ma non ho detto che è vero ma non ho detto che è vero e non ho detto che è vero ma non prendere ma che non è vero ma che non vuole ma non ho direi ma che sei affatto ma non sapevo frangoli ma non sapevo frangoli ma non sapevo frangoli ma si è vero ma non mi sia la faccia un'altra svegli svegli ma non svegli svegli i svegli E' un po' di più Ma è un po' di più E' un po' di più se lo vede, ti fa il risultato come si vede la foto, non fa il risultato ma hai già un'impreviste, l'hai già un'impreviste e poi non fa il risultato non fa il risultato, perché è più bello non fa il risultato, non fa il risultato non fa il risultato, non fa il risultato no, stai un accoggio amato ragione per me, con un'impreviste dite a giro, dite a giro, dite a giro dite a giro, dite a giro, dite a giro, dite a giro e scrivetelo nei commenti che è finita a 17 anni non ho compito proprio questa mattina Sì, tutto ciò che posso fare! Sì, prendi un'invator e mi prendi un'invator e mi prendi un'invator e mi prendi un'invator e mi vuole un'invator Oh, bravo! Siamo con un'invator Sì, prendi un'invator No problemi DAD! Allora? ENOUGH Sì, prendi un'invator Call me a taxi Sì 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 Uima, non paolo! Sì 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 Noi, vedi un'invator Sì 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 E' un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? Vado su tutto il video da lì Adesso, questo video dovrei 10 like 10? Qua la prossima settimana diciamo 100 like Per 100 Vado, perchè è solo ma è un po' di scema Oh, guarda ma, tu cosa stava la boba metta? Eh, metti la cosa, metti, metti Oio Spera di una macchina, poi finito No, non è finito, perché va già a correre il bagaglio Alla, ora non ho finito Ma è arrivato sotto, che è la macchina giustamente ne hammeno Sera il Franklin A poi, ora ancora non ci farà la faccia E poi ti faccio video E c'è dentro la mia sorella che sa fare bene con me E la direi da Gizzi C'è pure il canale YouTube, iscrivetevi al canale di Miriam, si chiama Miriam E lo dico nel prossimo video Miriam, come si chiama? Miriam, pare 3, 5, 6 Allora, Miriam 345 Ragazzi, si chiama Miriam 345 E Manu 360 Perché è quello che mi ha evitato con me Perché è quello che mi ha evitato con me E mette le buoni live con me No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 E no 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 E no E tu v'akui bai E tu v'akui bai Stai E ci andare a vedere Ma cosa fai, è un pressio a boosio? Non posso arrivare a te Io No Ragazzi Che stavi da nisso? Vieni amore, guarda ma cateva lungi, non faccio il challenge Faccio il challenge Mi sono arrivati, mi sono stati Poi non mi stava la zona nostra città Poi adoro? è proprio come Shopee, sai? quei torni ragazzi vi saluto qui questo video si conclude e ci vediamo al prossimo video non so quando lo farò però lo farò più presto possibile vi saluto, ciao